Meglio tardi che mai. Sono partiti questa mattina i primi interventi di riqualificazione dei luoghi più frequentati e ammalorati della città di Fano. Tra questi, occhi puntati sui parchi dei quartieri di Carrara e Tombaccia, mentre per la zona mare, nuove panchine in legno e in pietra lungo il molo tra il Lido e l'Arzilla. Per concludere poi con il lungomare di Salsonia, con un vero e proprio intervento di messa in sicurezza, ordine, pulizia e nuovi arredi. Costo complessivo dei quattro cantieri, 250 mila euro. In anteprima al Waterfront non potevamo fare un intervento sostanzioso di carattere economico perché saremo stati degli scellerati, per cui parlo di messa in sicurezza perché andremo a riqualificare un po' tutte quelle che sono le parti ammalorate della passerella. Ci sarà una bonifica del calcestruzzo, quindi tutti i buchi, tutti quegli spazi che oggi naturalmente versano in una condizione non in sicurezza ma anche indecorosa verranno sistemate, così come la pista di pattinaggio ed anche il luogo dove oggi giace la barchetta che è la pista per giochi perché lì c'era proprio tutto l'antitrauma che si era scollato. Oltre questo andremo anche a fare un intervento di pulizia nella parte dell'anfitriato Rastat e non solo tutte quelle parti che sono state sporcate nel tempo e quindi verranno assolutamente ripulite. di arredo perché abbiamo fatto anche un acquisto di ulteriori panchine da mettere nella passeggiata e anche nelle aree verdi quindi tavoli e altre panchine e faremo anche un intervento d'ordine inteso proprio per le bicicli per mettere in ordine tutte quelle che sono i cicli sparsi lungo la passerella e anche sotto il tendone. In attesa della partenza del progetto Waterfront che vedrà l'intero ammodernamento del lungomare fanese il Comune gioca le carte d'anticipo per la prossima stagione estiva intervenendo anche in quei punti lasciati abbandonati da molti anni come la riqualificazione completa della rosa dei venti elemento distintivo almeno per quando era in funzione della passeggiata di Sassonia. Verrà riqualificata com'era per cui gli verrà restituito quello che era la sua sembianza originale con il pennacchio e con l'indicazione di quello che sono poi i punti cardine del vento. Noi per l'estate dobbiamo essere pronti. Insomma finalmente buone notizie per chi frequenta questi spazi grazie alle tante segnalazioni e all'impegno dell'amministrazione. Ora però vedremo quanto tutto questo durerà prima che i soliti vandali rovinino come sempre il bene comune.